In questa puntata, urbanistica, le specifiche chieste dal Ministero, carceri, garante dei detenuti, favorire le iniziative di promozione sociale, sulla terrazza di San Casciano dei Bagni, con ROC Un Monte a Montespertoli, 120 anni dell'Aquila Montevarchi. Le modifiche alla legge regionale 12 2022, con la quale si semplificano le procedure per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari, approvata nello scorso mese di aprile, si sono rese necessarie per effetto di una serie di contestazioni avanzate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo. Il Consiglio regionale le ha approvate a maggioranza con 27 voti a favore e uno contrario. Non hanno partecipato al voto i consiglieri di Fratelli d'Italia. Oggi abbiamo assistito a un'inedita trattativa, o meglio, al racconto di una trattativa che c'è stato nei giorni scorsi fra il Governo e la Regione Toscana sulla base della legge per la semplificazione dell'iter che dovrebbe portare ad approvare i progetti legati al finanziamento del PNRR e dei fondi complementari. Di fatto il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio perché le norme introdotte dalla Regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica, cioè il piano di indirizzo territoriale, senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti del Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no, si tratta di un errore interpretativo, sta di fatto che la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per realizzare opere che speriamo siano davvero utili per il territorio ma che certamente avranno un impatto sul territorio stesso che forse i consiglieri comunali e i sindaci sono più in grado di altri di valutare. Ancora una volta per fare presto e bene, si spera, in realtà si forzano le norme che la stessa regione per anni ha tenuto inchiodando l'economia locale. Intanto sono contento che un impegno che avevo preso con il governo per evitare l'impugnativa oggi l'Aula abbia deciso di accoglierlo e di approvare una modifica che serve sostanzialmente soltanto a rendere più chiara la legge. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui interloquento insieme al segretario generale, agli uffici del consiglio regionale con il ministero del MIBACT avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del piano nazionale di ripresa e resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali. Quello che abbiamo fatto e la leale collaborazione ha portato poi alla modifica di questa norma che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi al PNRR. Secondo me questa è buona politica e sono contento che l'Aula lo abbia votato praticamente all'unanimità con il gruppo di Fratelli d'Italia che non ha partecipato al voto. La situazione nelle carceri toscane per quanto riguarda i contagi da Covid al momento è tranquillizzante. Rimangono però enormi problemi del sistema carcerario nazionale e regionale ad affermarlo è il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale regionale. Giuseppe Fanfani. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022. Una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano evidenza le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute non soltanto fisica ma anche psichica della popolazione carceraria e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante. Il quale fa anche un auspicio, un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto anche in virtù di una più intensa collaborazione che il garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo. Un impegno a implementare l'assistenza ai detenuti sotto il profilo della tutela della salute negli istituti di pena, un impegno a prendere in considerazione la popolazione carceraria femminile soprattutto per la valutazione di misure alternative alla detenzione e anche un impegno congiunto con la prima commissione del Consiglio regionale che è quella di fare visita a tutti gli istituti di pena della Toscana. La prima commissione ha già iniziato con la visita al carcere di Solliciano, il carcere più importante e dal punto di vista numerico che abbiamo in Toscana proseguirà nei prossimi mesi con le visite a tutti gli istituti di pena del nostro territorio regionale. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario, al di là dei detenuti anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante che troviamo non condivisibile in numerose sue parti, in particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma è il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. Quindi sì, attenzione, tutela, soprattutto sanitaria, quando invece sappiamo che ci sono dei rischi di ridimensionamento del servizio sanitario all'interno delle carceri, nei confronti dei carcerati, ma anche l'attuazione del principio chi sbaglia paga. Un principio fondamentale perché nel nostro Paese si tende troppo spesso a non far pagare a chi ha sbagliato. Nuove generazioni rifinanziata la legge toscana per favorire iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione. Non direi semplicemente della street art, direi rifinanziamento di tutta la legge regionale numero 3 del 2022, Rigenerazione Toscana, la quale è stata il frutto di un lavoro di squadra fatto da tutto l'ufficio di Presidenza, maggioranza e minoranza che sono riusciti a proporre delle offerte ai comuni così significativi con questo bando che sono stati numerosi i comuni toscani che hanno aderito al bando e sono circa 190 ed è per questo che oggi siamo andati a rifinanziare con ulteriori 500 mila euro proprio Rigenerazione Toscana. Sono soddisfatto perché con il lavoro di squadra, il lavoro serio, possiamo fare il bene dei toscani attraverso i comuni e anche dei nostri giovani. Sarà Maria Sole Tognazzi, premio Fonte Verde 2022 ad inaugurare il programma di incontri nella panchina di San Casciano dei Bagni che prenderà il via il 10 luglio con la sesta edizione della Terrazza. La rassegna che invita le personalità e i volti celebri dell'attualità a confrontarsi sui temi del presente fino al 3 settembre accoglierà nel Borgo Termale 11 appuntamenti dedicati ai temi più discussi del momento, salute, ambiente, mafie, imprese ma anche cultura e spettacoli, oltre ai doverosi approfondimenti sulla guerra in atto. È un evento bello, un evento che rappresenta bene l'idea di Toscana, fatto in un luogo incantevole, uno dei più belli della nostra regione, con un programma culturale di altissimo altissimo rilievo. È il segno della storia della Terrazza, è il segno di un impegno di anni e noi continuiamo a essere al loro fianco perché dove si tiene insieme la bellezza dei nostri territori, l'arte, la storia, la cultura, c'è l'idea di Toscana che partendo dalle sue radici guarda con speranza e ottimismo al tempo che verrà. È vero, sono tempi difficili. Io ricordo quando lo scorso anno ci ritrovamo qui per la conferenza stampa, era il primo giorno in cui all'aperto si poteva stare senza mascherine. Tutto questo è stato possibile grazie ai vaccini, è vero, c'è un ritorno, un'impennata di contagi. Allora cerchiamo anche in questi giorni dove è possibile, per quanto siano solo consigliate, di mantenere quelle regole che ci si è andati, distanziamento, mascherina, per fare in modo che questi eventi, specialmente quelli all'aperto, possano tornare ancora più forti di prima e siano vissuti da più cittadini possibili. Dall'8 al 10 luglio nel Borgo Toscano di Montespertoli si aprirà la decima edizione della Kermesse Rocco Monte con concerti, street food, mercatini artigianali e mostre. Per quest'anno, che è appunto la decima edizione del festival, abbiamo pensato di una programmazione molto ricca. Durante il festival ci saranno street food, mercatini artigianali e una programmazione di artisti molto ricca, da artisti locali emergenti del territorio fino a nomi che suonano a livello nazionale come Giancane, Bianco, Cecco e Cipo, Kruger e Comete. L'intento del festival è quello di creare tre giorni dove coinvolgiamo il territorio, coinvolgiamo anche attività locali come il circolo fotografico di Montespertoli, il comissato genitori scuole che hanno organizzato una mostra con i disegni dei bambini. Cerchiamo appunto di coinvolgere per tutto Montespertoli sia con musica, divertimento, cibo e mercatini. Noi abbiamo organizzato un'estate dove c'è sempre qualcosa in tutti i weekend, per tutti i gusti sostanzialmente. Abbiamo iniziato la mostra del Chianti, ora continuiamo con il Rocco in Monte, poi finiamo con la lirica e a Medeo Bassi, quindi tutti i fine settimana qualcosa c'è a Montespertoli, soprattutto di musicale per accontentare tutti. I nostri borghi stanno vivendo, stanno vivendo anche tanto. Devo dire che ho un'agenda piena di appuntamenti, però oggi questo per me è un appuntamento molto particolare, perché è un appuntamento voluto da tanti giovani e da loro sostenuto, allora essere oggi qui è anche un modo per essere vicino alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che in questi mesi terribili di pandemia sono quelli che hanno sofferto più di tutti, allora questo è un momento vero di ripartenza. Noi abbiamo lanciato un bando che ha ricevuto tantissima partecipazione da parte di quasi 200 comuni della Toscana, rivolto ai giovani e tra questo anche eventi e iniziative di questo genere, iniziative che tendono a includere, che tendono a coinvolgere, che fanno sì musica ma poi fanno conoscere i prodotti enogastronomici del territorio. La Toscana è terra di bellezza, la Toscana è terra di storia, di arte, di cultura, la Toscana è terra di eventi come questi. Il Rocco Monte 2022 è qualcosa di davvero centrato rispetto al nostro lavoro, qualcosa di bello e importante e io mi auguro che tante ragazze, a tutte le ragazze, a tutta la Toscana possano parteciparci. Il Rocco Monte è un'iniziativa molto partecipata che è nata dai ragazzi di Montespertori, che si è strutturata, rafforzata e rientra in una bella attività che l'amministrazione comunale sta svolgendo da tanti anni, per cui accanto alla promozione di Montespertori, nel luogo di produzione di vino, di enogastronomia, quello per cui conosciamo tutti quanti, Montespertori, uno dei comuni più grandi produttori di vino, c'è anche la promozione di tante altre attività e diversificando l'offerta anche per un pubblico di alta tipologia come appunto questa manifestazione Rocco Monte, che anche dal nome si capisce, nasce da energie giovane e che è una grande occasione per tutti per passare tre giorni molto divertenti e con buona musica, molto esperto. Una targa del Consiglio regionale della Toscana per ricordare i 120 anni di storia sportiva dell'Aquila Montevarchi 1902, la più antica società calcistica della Toscana. La cerimonia si è svolta nella Sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso, è stato il Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo a consegnare il riconoscimento nelle mani del Vice Presidente del Club Andrea Romei. 120 anni di storia sportiva, patrimonio e prestigio della nostra comunità, è la motivazione incisa sulla targa. Per noi è un riconoscimento importante perché sappiamo il valore della nostra Aquila, Aquila Montevarchi, che è la società più antica della Toscana e tra l'altro quest'anno ha un valore ancora doppio perché ha coinciso con il nostro primo anno della nostra gestione nel ritorno nella Lega Pro. In più ci siamo salvati, quindi noi faremo la terza categoria professionistica anche il prossimo anno e per noi è un onore essere qui, è un onore di partecipare a questo campionato e ringraziamo per questo riconoscimento.